Vigili del fuoco in azione questa mattina in alcune scuole a Palermo. Nella elementare Lambruschini in via Don Giovanni Minzoni i pompieri hanno fatto cadere alcuni calcinacci pericolanti all'interno di un'aula ed hanno constatato una lesione ad un muro. La stanza è stata dichiarata inagibile e la classe chiusa. L'intervento era stato richiesto dalla polizia intervenuta propria volta dopo la protesta di alcune mamme intenzionate a sollecitare un sopralluogo per sbloccare interventi di manutenzione chiesti più volte ma mai giunti. Dalla scuola fanno sapere di aver sollecitato a loro volta gli enti pubblici che sono preposti alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici senza aver mai avuto risposta e che l'iniziativa dei genitori seguiva una protesta inscenata davanti la scuola. Ora saranno le forze dell'ordine inoltre agli opportuni solleciti. Un secondo intervento invece è avvenuto nella scuola Giovanni Pascoli in via Zisa anche in questo caso su richiesta dei genitori degli alunni secondo i quali alcune aule sarebbero pericolanti.